e per finire in bellezza inciampano anche i cugini rossoneri ogni volta siamo qui a glorificare il percorso del Napoli che indubbiamente è trionfale ma io non vorrei che dietro questa constatazione si rifugiassero e si nascondessero in qualche modo quelle che stanno sotto e no no perché per un Napoli che sta facendo qualcosa di indimenticabile onestamente tutte le altre si stanno dimostrando modeste quantomeno per determinazione per per efficacia perché se penso a un inter seconda ma con otto sconfitte all'attivo dico tra me e me qualcosa qualcosa non torna qualcosa non torna quindi io spero che tutte le altre in qualche modo non si sentissero sollevate da responsabilità perché le responsabilità ci sono e come se ci sono e questo vale anche per il Milan questa sera e ne parleremo ovviamente nella mattinata di domani invece nel riassuntone andiamo proprio a parlare di questo gap che c'è tra il Napoli e le inseguitrici che è un gap lasciatemi dire imbarazzante ecco imbarazzante ripeto nonostante il Napoli stia facendo qualcosa di clamoroso questo non toglie che le altre in qualche modo non stiano non stiano non stiano galleggiando ecco fatemi di questo ma siamo qui per parlare di Milan di Milano Salernitano arriva questo pari un Milan che tira oltre 25 volte 25 volte ma centra poche volte il bersaglio e qui c'è da andare a parlare della fase offensiva di alcuni giocatori nella fase realizzativa il gol subito onestamente ci permette di fare delle considerazioni in particolari anche sul discorso di concentrazione e di voglia di fame se vedi un giocatore come Candreva non seguito da nessuno con Tomori che resta in mezzo al campo francamente alcune cose non si spiegano ma ci arriviamo prima vi invito a lasciare un like a iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti e come vi dicevo domani mattina andiamo con il riassuntone valutiamo tutta la giornata tutte le squadre anche sul discorso salvezza parliamo di tutto e di più per cui se volete iscrivetevi e volevo anche consigliarvi e ricordarvi survivor game che potete scaricare gratuitamente con link in descrizione c'è anche l'app per cui comoda comoda potete potete trovare un gioco che innanzitutto è gratuito e quindi vi potete iscrivere gratuitamente ai vari tornei di volta in volta di serie A di premier league di di liga di serie B trovate di tutto e di più e il gioco consiste ve lo spiego brevemente no dovete scegliere una squadra per ogni campionato e se la squadra vince passate al turno successivo nel momento che restate l'ultimo sopravvissuto avete l'opportunità di vincere anche buoni buoni amazon quindi ragazzi non costa nulla e avete l'opportunità anche di vincere premi ragazzi meglio di così ditemi ditemi voi ditemi voi ma andiamo andiamo a milan andiamo al milan salernitana milan salernitana è stata una partita che se tu vai ad analizzare sui numeri dici sostanzialmente a senso unico in realtà in realtà dietro il milan ha sbandato e davanti è mancato per quanto mi riguarda perché se è vero che arrivava anche con facilità e di occasione ce ne sono state ce ne sono state è anche vero che tante sono state malamente sciupate e dietro si è ballato per come la leggo io permettetemi di dire che voglio fare un po' la tara e commisura e forse andare a rivalutare anche quelli che l'anno scorso sono stati i reali punti di forza ovviamente non mi spiego meglio perché altrimenti rischio di creare di creare confusione indubbiamente da chi ci si aspetta di più da chi da chi ha un valore alto da chi ovviamente sia nell'immaginario comune ma proprio no realmente per quello che ha dimostrato è forte da chi è forte quindi indubbiamente sembra quasi ogni volta banale stupido però dobbiamo partire da Leao cioè secondo me dobbiamo partire da lui perché abbiamo visto come Giroud sia un attaccante oltre che d'esperienza dotato ma con personalità e leadership che non manca mai agli appuntamenti cioè Giroud paradossalmente può anche mancare nella fase realizzativa in alcune situazioni perché non è un attaccante che ti fa ormai anche a una certa età ma non è un attaccante che ti può fare 20 gol stagionali ma in ogni partita il suo contributo alla squadra per il lavoro che fa per i palloni che ripulisce per come fa a salire la squadra per come ti attacca la profondità per tutto questo il suo Giroud lo fa sempre chi invece sta mancando su tutti gli altri ragazzi tutti se pensavo Righi doveva fare di certo un'altra nata è tornato Ibra e onestamente sì c'è stato quel tiro nel finale ma l'attaccante del Milan non può essere non può essere questo Ibra cioè nel senso che per carità Ibra è stato un grande campione però veramente non è che possiamo continuare con il discorso no ma anche 5-10 minuti di Ibra ti posso fare differenza sì capiterà sono convinto che capiterà farà anche il gol per carità di Dio ma il suo l'ha dato cioè il suo l'ha dato da chi oggi ti devi aspettare prestazione costanza continuità no un giocatore che determina incide per strappi anche per reti anche per reti realizzate deve essere Leao e Leao già in passato si è dimostrato spesso e volentieri in costante con questo nuovo assetto tattico portandolo più centrale onestamente ragazzi sta facendo tanta fatica cioè Leao sta facendo tanta tanta fatica ne già parlavamo negli altri video quindi è inutile ripetersi però diventa un giocatore devastante se vede porta se parte dal laterale se può vedere se può accentrarsi no a parte largue e si accentra è un discorso ma se è già centrale secondo me fa molta 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 no secondo me onestamente basta vedere numeri e basta vederlo basta vederlo in campo anche stasera è qualcosina prova da fa con qualche tiro a giro da fuori quando quando gli è riuscito qualcosa però io penso alla prima palla che ha toccato avete visto come batte batte il Milan batte inizialmente e cosa pronti via perde subito palla e rimane lì quasi anche scazzato io quindi al di là del discorso del discorso del modo l'assetto tattico credo che anche l'atteggiamento del giocatore anche l'atteggiamento cioè non può essere così superficiale così sbadato così leggero sì lo abbiamo sempre detto è un ragazzo che forse anche caratterialmente così però cazzarola stiamo parlando del miglior giocatore della serie A l'anno scorso è stato eletto miglior giocatore della serie A allora non ti puoi aspettare queste performance francamente al netto di una prestazione del Milan dove il gol poteva comunque arrivare se pensiamo ad alcuni episodi il tiro fuori di Benasser Calulu che in qualche modo autosalva fa una roba no una palla che stava andando dentro la prende Calulu anche se non sbaglio col braccio non sarebbe quindi comunque stato gol qualora fosse andata dentro ci sono state tante 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 situazioni lo stesso Giroud che oltre al gol aveva fatto quella incredibile rovesciata in aria e tante tante altre situazioni però come dicevo Dalle A o miglior giocatore della serie A ci si aspetta altro e so qui appunto a in qualche modo a fare una ripartizione di quelle che sono state i crediti che sono stati distribuiti l'anno scorso per me il giocatore nettamente migliore del Milan della serie A e questo si poteva dire anche dall'anno scorso per me è mignò per me è lui se oggi c'è da dire un giocatore che veramente fa la differenza è mignò perché oggi è una partita dove il Milan è vero che ha creato ma il Milan poteva andare sotto più volte poteva andare sotto non va sotto solo ed unicamente grazie a un portiere che non è normale non è normale nel senso che ha dei superpoteri è qualcosa di incredibile se penso all'uscita che fa come salva quel gol là con quel tempismo, con quella forza, con quel coraggio anche coraggio e poi esperto si fionda con agilità sulla palla già conoscendo e quindi la lettura che fa ma ancora prima di quel salvataggio anche su Boiner ragazzi miei fa un grande anticipo e poi si va a mettere lì su Castanos si va a mettere lì e va a coprire più porta possibile anche quello prima ragazzi è un intervento clamoroso cioè un portiere veramente allucinante veramente allucinante per cui per me veramente lui è uno di quelli che oltre al leadership è uno di quelli che determino senza se e senza ma perché anche oggi ripeto una partita del genere potevi finire sotto potevi finire sotto e più volte ha avuto delle occasioni clamorose la Salernitana che poi ha trovato anche il gol per pari e lì indubbiamente io non mi spiego non mi spiego la passività di Tomori cioè non me lo spiego se abbiamo parlato di una squadra che è stata squadra e che ha dimostrato proprio per fame la voglia di andare a vincere un trofeo come lo Scudetto quest'anno non si sta vedendo questo cioè atteggiamenti del genere perlomeno ci dicono ci dicono che non c'è non c'è quella voglia non c'è quella voglia non c'è quella voglia perché Tomori lì no se sei a centrocampo c'è Candreva che ti fa il movimento che giustamente entra in aria e lui tranquillo lo segue con calma con placidità e quando quando vede che la palla va dentro fa anche così no dice ma che cavolo ma come è possibile come come è possibile se stai a dormire come come è possibile cioè con una facilità cioè la Salernitana è entrata con una facilità incredibile perché Candreva appunto lasciato tranquillamente il gironzolare per il campo e non seguito mai da Tomori si è portato Calulo appresso o Chou o Calulu se non sbaglio Calulu e via ed è stato ed è stato infilato dal giocatore che può segnare almeno non mi ricordo Dia se non sbaglio Dia cioè dal Milan dal Milan non te l'aspetti questa questa superficialità questa leggerezza anche su Chou Chou nel primo tempo quelle parle perse Benasser troppa superficialità troppa leggerezza forse anche stanchezza non lo so ma sicuramente come volevo rimarcare come rimarcavo l'altro giorno parlando del Napoli all'ottantesimo sul 2-0 tutti i giocatori che ancora vanno a fare quel pressing feroce il Milan sull'1-0 ma anche sullo 0-0 no leggero superficiale ripeto nessuno che vuole fare il passetto in più questo fa la differenza fa la differenza e poi non sempre non sempre riesce ad andarla a ciuffare di nuovo la vittoria nonostante poi l'occasione ci siano state ma non sempre ti riesce non sempre ti riesce va bene ragazzi questo è il mio punto di vista fatemi sapere cosa ne pensate voi se è andato un po' lungo indubbiamente e forse carico il video un po' in nottata ma mi andava di dire tutto quello che pensavo un grande abbraccio da Neschio se volete ci becchiamo dopo cioè dopo domani mattina perché io lo registro in nottata ma becchiamo domani mattina con il riassunto un grande abbraccio da Neschio ciao